Cari amici buonasera, vorrei in sintesi, in riepilogo, cercare di capire la vita sessuale del nostro premio. Rammento una sua bugia classica, io in vita mia non ho mai pagato una donna, ne sarebbe andata della mia dignità e questa è la sua verità, ma sono bugie. Ora vi dico le vere verità che sono quelle di aver sempre pagato prossaneti, mezzani, cercatori di puttane e le ha pagate. Ha pagato poi le puttane e ora sta pagando i ricattatori che sono coloro i quali gli hanno fornito le puttane, lo stanno ricattando. Questa è la verità. Devo dire con franchezza che il nostro Don Giovanni, il Novello Casanova, ci sa veramente fare con le donne.